buongiorno da btv news oggi sei maggio san pietro nolasco per ricordare l'immensa fortuna che ogni giorno abbiamo quando aprimo gli occhi e riusciamo a vedere il blu del cielo il verde di prati il 6 maggio è stata istituita la giornata mondiale del colore un'occasione per ricordarci anche di quanto le diverse tonalità dei colori possano ogni giorno avere un forte impatto sulle nostre vite dandoci la possibilità di esprimerci di sentirci in sintonia con il mondo che ci circonda è una festa che ci ricorda quanti colori sono fondamentali nella nostra vita ci guidano in ogni nostra scelta influenzano le percezioni candiscono le nostre giornate ci narrano la bellezza della natura e di ciò che abbiamo intorno nonostante la giornata mondiale del colore è stata inaugurata 14 anni fa per i bambini anche per gli adulti però il legame con i colori è fondamentale per trasmettere calma e serenità come il verde l'azzurro ad esempio o passione erotismo come rosso attraverso i colori inoltre riusciamo a esprimere quotidianamente ciò che stiamo il nostro umore e il momento che viviamo anche se ormai alcuni cliché come ad esempio quelli che legano i colori il genere sono assolutamente superati e gli uomini indossano rosa tanto quanto le donne amano portare la inghilterra amano portare la dmsurro